Articolo di Piero Giunta. Ragionando a bocce ferme, buona la prima del nuovo anno per l'Arcobaleno Ispica che ha battuto per 7 a 4 il Mascaluccia. Passate le 24 ore possiamo dire che i ragazzi del presidente Angelo Galifi hanno tutte le carte in regola per competere per la vittoria finale del campionato o disputare play-off. L'Arcobaleno, che quest'anno compie i suoi primi 20 anni, è una bella realtà ispicesa nel panorama del calcio a 5 siciliano e nazionale. In questi 20 anni si è lavorato con serietà, qualità che distinguono la società ispicese e si è investito in primo ordine sul vivaio ispicese. I vari Giovanni Corallo, Davide Di Benedetto, Antonio Lupo, Alex Gambuzza, Salvatore Sortino, Luca Cataldi, sono cresciuti imparando da Marcello Mittelman e Fabio Lorefice un calcio sano fatto di educazione sportiva e tecnica acquisite in questi 20 anni, assaporando le vittorie, i pareggi e le sconfitte. Citando un detto, possiamo dire che sono cresciuti con pane, acqua e calcetto e oggi sono un valore aggiunto sportivo che la società Arcobaleno e la ispica sportiva possono vantare. Diciamo che la scommessa dell'Arcobaleno è stata vinta. Detto ciò, e archiviata la vittoria di mercoledì scorso, già domani la squadra ispicese è impegnata in trasferta da Augusta contro il Real Augusta che ha vinto a Caltanissetta contro la Pronissa per 4-1. Un'altra gara impegnativa per i ragazzi ispicesi, ci vogliono carattere, grinta e gioco, questi ingredienti, la squadra allenata dal duo Mittelman e Lorefice ce li ha tutti. Come dicevamo nel nostro articolo dell'altro ieri, la ispica sportiva comincia a sognare la Serie A2 e i sogni a volte si avverano. Sarebbe un risultato storico per la città di Ispica che ha fame di sport e che se lo merita tutto. Sarebbe un risultato storico per la città di Ispica. Grazie. Grazie.